buon pomeriggio buon pomeriggio questa è l'ora solare scattata esattamente in questo preciso istante sulla nostra ben trovati sulla nostra e vostra tv 2000 adesso con preghiera a casa di seguirci con molta attenzione e anche in studio di seguirci con molta attenzione siamo romantici parliamo di baci ma voi il vostro primo bacio ve lo ricordate barbara tamborini sorrido perché loro sono una coppia splendida psicopedagogista e alberto pellai medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva ben trovati sposi da vent'anni alberto scrive su famiglia cristiana puntiti hanno scritto molti libri dedicati a genitori e figli tradotti in tantissime lingue in tanti paesi e l'ultima opera guardate la qui è questa il primo bacio è un libro bello importante che nasce da una storia in famiglia che quando l'ho letta mi ha fatto da un lato ridere dall'altro detto che tenerezza arriviamo subito però alla storia quando vi siete dati il primo bacio è perché mi autorizzate essere in picciona così non ho capito ben arrivati innanzitutto grazie rispondi tu ma in realtà c'è stato un percorso prima di arrivare perché lei non era molto dell'idea di di fare copia con me quindi c'è stato davvero un lungo corteggiamento poi improvvisamente una sera in metropolitana in mezzo a tutta la gente lei si dichiara disponibile a cominciare una storia ma io rimango come confuso qua in mezzo a tutti ho detto no lo curiamo un po meglio il nostro primo bacio gli ho ridato appuntamento al giorno dopo immagino queste cose meritano attenzione barbara insomma perché il primo bacio è importante assolutamente proprio segna un momento particolare lo è per tutti sicuramente lo è stato per noi ma lo è soprattutto anche per i ragazzi che danno il loro primo bacio perché è un'esperienza che muove dentro emozioni che lasciano un segno che scuote infatti molto spesso si trema quando si dà il primo bacio succede proprio che la sensazione che il cuore impazzisce molto spesso appunto si trema proprio fisicamente che non si riesce a contenere questa emozione ed è proprio perché vengono prodotte moltissime sostanze chimiche dalla dall'emozione di quel momento perché entrano in contatto bocca occhi e quindi l'intimità che si crea con qualcuno è così intensa che che proprio c'è emozione ci lega in modo intenso a questa persona anche se poi magari il giorno dopo ci perderemo di vista io non vi chiedo il vostro primo bacio separato e distinto perché non so non sarebbe carino non marito e moglie da vent'anni ma poi tutto sommato ma chi se ne importa loro sono una coppia splendida splendida e e giustamente alberto ha detto poi usciamo dalla parte strettamente personale però immaginiamola come il racconto in un film e darle il primo bacio in metropolitana forse sarebbe stato quasi sciupare un momento che deve rimanere indimenticabile che deve no e quindi è bella anche questa cura e questa attenzione si credo che la parola giusta sia proprio avere cura delle cose importanti e quindi non farle avvenire così semplicemente perché magari c'è la possibilità oppure perché in quel momento si dice si può andare cioè e credo anche che nell'amore questo è proprio una cosa che dobbiamo insegnare anche i nostri figli essere sintonizzati reciprocamente sull'altro significa proprio trovare un tempo che è il tempo di tutti e due non solo il tempo di quell'attimo allora all'inizio del libro c'è un'intervista e poi tutto parte dalla dichiarazione di un ragazzo questo ragazzo è nel gruppo di quelli che sto per nominare quattro figli questa coppia è non ti do un bacio in metropolitana ma voglio dire poi siamo usati in vent'anni guardate che cosa caterina pietro alice jacopo 10 12 15 18 ma dove li ha fatti quattro figli lei con questo guarda ma belli ma che cartolina cartolina dai sassi di matera ma veramente qui l'opera d'arte davanti ai sassi che di per le di per sé lo sono chi è jacopo del gruppo è il più grande maglia blu barbara che succede un giorno è succede che mio figlio quando aveva dieci anni per la prima volta eravamo in bagno stava per entrare a farsi la doccia e d'improvviso inizia a parlarmi con un tono un po serio non mi sta dicendo qualcosa di importante e mi confida mi dice guarda mamma un po mi viene da ridere a raccontartelo ma per la prima volta ho sentito qualcosa per una mia compagna in quel momento io sono rimasta ho detto mi sta facendo una confidenza incredibile non posso sprecarla devo dire qualcosa di molto intenso di molto appropriato perché sta proprio facendo la confidenza chissà quante quanto gli è costata e ho detto la cosa più stupida che potessi dire perché in quel momento ero così emozionata dalla dall'intimità dal momento particolare dal pensare mio figlio già sull'altare con già aveva già fatto le bomboniere dottoressa lei aveva già era l'ultimo nastro dell'ultimo sacchetto di bomboniere stavo appunto annodando e allora gli ho chiesto ma dimmi ma cosa hai sentito nel cuoricino lui improvvisamente mi ha guardato con aria un po schifata mi ha detto mamma puoi uscire che entro in doccia ciao ed è finito l'argomento allora cosa si fa quando un genitore perde l'idea di accumulare i punti e in un attimo tutti i punti che tornano a zero è terribile mi prendono in giro ancora adesso per la verità è che lei raccontando questo e la ringrazio e voi raccontando questo ci spiegate come l'emozione in realtà sia doppia perché voi parlate ai genitori perché sappiano parlare i figli anche i genitori non sanno cosa fare a volte no da questa idea è proprio così anche è stato proprio la ragione principale per cui poi abbiamo scritto questo libro partendo da una zona faticosa così anche un po sorridente ironica della nostra vita familiare facendo il nostro mestiere incontriamo tantissimi genitori e la consapevolezza che abbiamo è che è difficile davvero difficile trovare le parole per parlare con i figli di affetti di sentimenti di amore ma poi anche di sessualità questo è proprio un libro che si dedica all'educazione sentimentale affettiva e sessuale in particolare dei figli che sono in quella fascia della fase della zona di crescita che è la preadolescenza che è una zona meravigliosa però anche molto molto complessa perché in questo momento i nostri figli spesso crescono di nuovo con il deserto e il silenzio educativo dei genitori che non riescono a dire niente perché sono molto imbarazzati molto non sanno un po come si fa e allo stesso tempo però navigano magari massicciamente all'interno dei loro siti pornografici o vedono una sessualità che non è assolutamente adatta loro e restano soli Alice 15 anni i genitori devono parlare ai figli di amore del primo bacio e la domanda sì senza essere invadenti e senza fare domande troppo dirette tutte le risposte lasciando la finestra aperta tra poco Allora Solare Alberto Pellai e Barbara Tamborini il primo bacio all'educazione sentimentale dei nostri figli preadolescenti edito da De Agostini Allora, esempi concreti di educazione sentimentale proprio in questo tempo in cui se forse prima si parlava poco perché non si sapeva come fare oggi si ha attorno una palude spesso pericolosa di ti spiego io da parte dei non genitori, da parte di internet, da parte di tutto quello che potrebbe anche fare male Allora, esempi concreti di educazione sentimentale anche qui chi inizia? Ma io penso a... sicuramente la situazione che in tutte le famiglie è quotidiana è il fatto che succedono cose che accendono domande e quindi i figli ci fanno domande che ci spiazzano molto spesso nei momenti più inaspettati e quella è un'occasione dove noi facciamo capire se abbiamo voglia di confrontarci e di parlare di certe cose o se vogliamo dare un messaggio che certe cose è meglio non chiedercele e le occasioni sono infinite mi è capitato un po' di tempo fa quando Caterina era più piccola che eravamo in giro in bicicletta e abbiamo parcheggiato ho parcheggiato la bicicletta davanti a una farmacia e proprio dove c'era il distributore dei preservativi e in quel caso mia figlia mi ha chiesto mamma ma cos'è questa cosa tutta colorata? in quel momento io mi sono detta potevo parcheggiare da un'altra parte ma questo guardia tutta la nostra solidarietà nel senso che uno dice perché proprio però in quel momento lì ho capito che questa come oppure mentre stiamo vedendo un film e c'è una scena dove due persone si capisce che stanno vivendo un momento intimo stanno facendo l'amore e qualcuno a ciclo ci ha chiesto ma cosa sta succedendo oppure l'avete fatto anche voi questa cosa qua con un po' di disgusto attenzione, attenzione, con moto di disgusto perché e qui vengo dal papà c'è sempre, io credo guardate davvero l'abbiamo provata tutti questa sensazione i nostri genitori poiché sono grandi ci sembrano completamente esenti da qualsiasi forma di innamoramento, di affettuosità è una cosa per la quale siamo passati più o meno tutti quanti allora come si controbatte tutto questo? raccontando? io credo che la cosa importante sia aiutare un figlio a capire che la sessualità è una cosa meravigliosa nella vita delle persone e che quando ci si vuole veramente bene ci si vuole bene poi con tutto con lo sguardo, con le parole, con il corpo il corpo è proprio un canale di comunicazione che tu metti a disposizione per la costruzione della relazione più intima e profonda della tua vita, quella amorosa quando un figlio ti dice ma anche tu mamma e papà fai queste cose io certo che voglio bene alla mamma con tutto me stesso quindi anche con tutto il mio corpo quando un figlio dice ma che schifo è importante lavorare su quell'emozione perché quando lui ci dice così noi gli possiamo rispondere guarda la sessualità è una cosa meravigliosa se tu in questo momento hai una sensazione di fastidio di disagio, di imbarazzo vuol dire che in questo momento una cosa molto bella a te entra dentro con una modalità invece modalità non giusta, non corretta esatto è proprio il tuo corpo, il tuo cervello che ti sta dando un messaggio importante dottore, torniamo a questa fotografia mai abbastanza volte grazie per questa immagine il bacio riconducendo tutto al primo bacio è giusto spiegare ai ragazzi che possa anche richiedere un tempo di attesa che sicuramente ha un timer che è diverso per ognuno di noi perché non si può irregimentare questo momento ma è corretto forse ecco in questo caso dire guarda io ho aspettato un giorno in più chiaramente lui non ha dormito la sera che nel viaggio in metropolitana poi sapeva l'indomani di poter avvicinare finalmente le labbra dell'amata perché aveva deciso lei di essere l'amata si può insegnare anche questo? credo che sia davvero importante lavorando tanto con bambini e ragazzi ci accorgiamo che spesso loro raccontano già gli elementari in questo momento di aver provato a dare il loro primo bacio semplicemente come se fosse un gesto della ginnastica per vedere che cosa è o di che cosa è fatto e naturalmente poi dicono ma sapeva solo di saliva perché quello è un gesto a cui non è attaccato niente allora aiutare proprio i bambini e i ragazzi a sentire che tu puoi avere un primo bacio che è un bacio curato puoi avere un primo bacio che è un bacio improvvisato puoi avere un primo bacio che è un bacio subito i baci delle penitenze dove tu improvvisamente perché la bottiglia si ferma lì sei quello designato e quindi ti tocca ecco è proprio il gesto è sempre quello il modo in cui lo vivi è molto differente questa educazione sentimentale vale per chi lo legge prima? la mamma o i figli? mamma e papà o i figli? ma direi che è un libro così di sicuro lo leggono prima i genitori e poi possono magari condividere alcuni passaggi con i figli in realtà ci sono 40 storie di primi baci e che sono molto godibili che ce ne sono 20 dati da ragazzi e 20 da ragazze e quindi questo è un ottimo materiale da condividere, da leggere insieme perché spesso i ragazzi sono un po' sfuggenti sull'argomento io credo che quando decidono di dare il primo bacio sono un po' da soli noi non siamo sulla scena con loro lo decidono proprio loro quello che possiamo fare noi è prima creare tante occasioni dove in un qualche modo rinforzarsi non aver paura di doverlo dare subito perché poi non riescono più e aiutarli a immaginare un primo bacio bello un primo bacio pieno è un primo bacio scelto non per paura che poi scappi l'occasione il bacio più bello della storia del cinema per voi due qual è? il bacio più bello della storia del cinema? quello forse Moonrise Kingdom un film ah carino c'è un film che abbiamo amato tanto abbiamo visto tanto anche con i nostri con i nostri ragazzi ed è la storia di due preadolescenti che fuggono fondamentalmente vengono da situazioni un po' disfunzionali e si trovano fanno proprio questa fuga d'amore per arrivare su una spiaggia costruire la loro tenda hanno portato lì non vado avanti perché guardi ho già la melassa c'è il miele che sta scivolando poi scivolo con la scarpa per lo studio e c'è però lì dentro proprio una purezza è un'intimità così fase specifica cioè così adatta alla loro età che è incredibile dico un'ultima cosa del team Pellai Tamborini litigano come due galli nel pollaio quando scrivono i loro libri perché lui ha un'idea lei ne ha un'altra ma l'unione fa veramente la forza e fa leggere libri bellissimi grazie a voi grazie di essere stati a Nora Solare e perdonate l'insolenza ma quella domanda ci voleva proprio grazie grazie a voi allora Solare il nostro Paolo Borrometi grazie Paolo grazie Paolo come sempre grazie a te Paola con Paolo Borrometi facciamo questo viaggio e nel viaggio c'è il viaggio che Paolo sta continuando a fare in tutta Italia con il suo libro Un morto ogni tanto edizioni Solferino io lo ripeto sempre e cito questo libro non soltanto perché è giusto non soltanto perché è cosa corretta ma perché attraverso questo libro Paolo incontra attraverso la presentazione di questo libro Paolo incontra tante realtà di giovani e meno giovani però di persone che stanno capendo più che mai il messaggio che si lancia quando si deve combattere la mafia e le mafie e l'illegalità più in generale grazie Paola ogni volta mi regali un sorriso perché ricordi soprattutto questo viaggio che poi è il viaggio che noi stiamo realizzando da qualche mese perché ci porta a conoscere le realtà anche con storie meno belle ma poi di riscatto sociale riscatto sociale oggi andiamo a sud andiamo in Puglia voi sapete che ogni volta che io chiedo a Paolo Borrometti dove ci porti la prossima settimana non me lo dice mai però il giorno però il martedì te lo dico in martedì siamo puntuali e oggi siamo a Cerignola assolutamente siamo a Cerignola con quale storia? Allora siamo a Cerignola con la storia di un bene confiscato a Rosario Giordano Rosario Giordano che era un affiliato delle cosche foggiane delle cosche pugliesi parliamo di una mafia che è violentissima le mafie pugliesi sono particolarmente violente stiamo sulla stretta attualità ancora in questi ultimi mesi più volte hanno rialzato la testa Rosario Giordano si occupava di sostanze stupefacenti di traffico di sostanze stupefacenti e quando una importante operazione delle forze dell'ordine e della magistratura decapitò il clan lui venne arrestato per ultimo e venne arrestato a Milano perché da Milano temeva il cuore pulsante del comando della sua organizzazione criminale di stampo mafioso questo anche per far comprendere come i collegamenti fra i territori siano assolutamente forti e che non esiste un unico territorio ma c'è un intero paese oltre dove le mafie drammaticamente fanno affari ma poi lo Stato vince come la targa che stiamo vedendo qui la mafia ha perso perché le mafie perdono come in questo caso perché lo Stato quindi ognuno di noi si riappropia di quelle che sono le nostre i nostri beni i nostri beni e li riutilizza come nel caso che andiamo a raccontare oggi direttore dell'ufficio del registro di Foggia Francesco Marcone ucciso il 31 marzo del 1995 questa è un'altra figura importante che oggi tu con la nostra Elena di Dio ci hai chiesto di ricordare allora Francesco la figura di Francesco Marcone è importante per più ragioni voglio partire dall'ultima Francesco Marcone come tantissime altre centinaia di storie noi le ricordiamo il 21 marzo che è la giornata per la memoria delle vittime innocenti di ogni mafia Francesco Marcone non ha giustizia dopo 24 anni dal suo omicidio il 31 marzo del 1995 Francesco Marcone non ha giustizia e perché venne ucciso dalla mafia pugliese dalla cosiddetta società perché perché appena qualche settimana prima era andata a denunciare in procura dei favoritismi che alcuni colletti bianchi si parla tanto di colletti bianchi dei professionisti che realizzavano favorendone i fatti la mafia e le mafie in quel territorio ecco Francesco Marcone andò a denunciare il fresco profumo della denuncia e ecco perché era importante proprio oggi proprio parlando di questo territorio ricordare la sua storia anche perché fammi fare una chiosa noi prima abbiamo parlato di baci di genitori che raccontano ai propri figli cosa vogliono dire i sentimenti io penso ai figli alla figlia di Francesco Marcone che non hanno potuto godere di questi sentimenti ed è a loro che va il mio applauso e questo è il nostro Paolo Borrometi a Cerignola a Cerignola alla cooperativa attenzione al nome Pietra di Scarto c'è Antonella Ferrara Antonella buongiorno buon pomeriggio buongiorno buongiorno Paola buongiorno Paolo io sono a Cerignola ma sono nel laboratorio di legalità che è proprio dedicato a quel Francesco Marcone di cui parlava Paolo in studio insieme a me ci sono il presidente il vice presidente di Pietra di Scarto che è questa cooperativa che si impegna a diffondere un messaggio di giustizia di antimafia su questo territorio appunto Pietro Fragasso e Giuseppe Mennuni e a loro chiedo partendo proprio dal presidente perché questa scelta perché dedicare il laboratorio di legalità proprio a Francesco Marcone buongiorno buongiorno a tutti il senso forte di questa decisione sta nel fatto che Francesco Marcone ha lavorato per 17 anni in questa città e quando ci siamo trovati a dover decidere a voler decidere quale nome dare a questo luogo ci è venuto abbastanza spontaneo anche in virtù della nostra forte relazione con Libera e quindi i due principi cardini di Libera la nuoria e l'impegno ecco il nostro impegno non poteva non partire dal territorio e dal ricordo di una vittima di questo territorio che è stata appunto Francesco Marcone su questo bene confiscato voi fate di tutto è proprio per quello che l'avete chiamato laboratorio mi dicevi ma in particolare alle nostre spalle ci sono degli riveti cosa coltivate? ma qui da quando siamo arrivati cioè dal 2010 abbiamo cominciato a recuperare questo appezzamento questo appezzamento è vocato principalmente alla produzione di Bella di Cedegnola che è un'oliva tipica di questo territorio un'oliva DOP e noi abbiamo deciso di coltivarla biologicamente e soprattutto facendo inserimento lavorativo di persone che vivano diciamo la marginalità dell'esistenza o la difficoltà di questa vita e quindi l'idea è stata quella di far collimare le due cose attraverso poi un prodotto che sarebbe stata appunto la Bella di Cedegnola identificativo di un territorio e di questo luogo e del suo messaggio in particolare oltre alla Bella di Cedegnola c'è un altro prodotto che viene fatto qui che è un prodotto libero prima di tutto oltre che genuino qual è? raccontami perché avete deciso di coltivarlo? ma nel 2013 in realtà ci siamo posti un interrogativo in un territorio dove il caporalato il fenomeno della filiera dello sfruttamento del pomodoro era ed è una realtà assolutamente presente la nostra idea è stata quella di provare a creare una filiera alternativa o meglio autodeterminata cioè che decidesse come gestirsi e questo come passa inesorabilmente per un rispetto dei diritti fondamentali delle persone in particolare dei lavoratori in un mercato che però è il grande problema di riferimento e che genera sostanzialmente poi questo welfare mafioso che è il caporalato ecco Paola in realtà il pomodoro non viene soltanto prodotto qui c'è un progetto in corso ma ve lo raccontiamo tra un po' insieme a chi qui ci lavora e ha trovato la svolta e la propria vita Antonella grazie grazie a te ovviamente ai tuoi ospiti allora ci guardavamo con il nostro Paolo Borrometi il caporalato ecco quella è una battaglia più che mai giusta combattere questa gente ed è una battaglia di dignità di civiltà di democrazia se noi quando finalmente ci renderemo conto che il lavoro è il vero grimaldello per sconfiggere le mafie perché dove c'è lavoro libero c'è finalmente libertà di pensiero di parola di lavoro appunto di lavoro e quindi è straordinario ed è straordinario come in poche parole si è riusciti a dare un un identikit di uno dei problemi che è proprio il caporalato lo sfruttamento nei campi di quelle donne di quelle persone che vengono nel nostro paese per un nuovo futuro e che le mafie sfruttano poi parleremo di questo ciascuno cresce solo se sognato attenzione poi ne parliamo tra poco con e torniamo dalla nostra Antonella le economie sottratte all'illegalità e questo Paolo è un qualcosa che tu ci stai raccontando dall'inizio diventano oggetto e soggetto di crescita economica cioè fanno successo detto in parole povere e non c'è niente di più bello non c'è niente di più bello per tante ragioni innanzitutto per il significato ma poi perché le persone si rendono conto che realmente dove c'è la denuncia c'è una crescita che riguarda appunto una nuova possibilità di lavoro di economia guarda Paola 21,3 miliardi di euro è il business delle agromafie nel nostro paese l'anno 21,3 miliardi di euro ci rendiamo conto quante finanziarie sono? Ecco ci rendiamo conto perché non ci devono sembrare numeri da paperon da paperoni sono numeri veri cioè quelli sono soldi veri e di conseguenza attenzione quelle economie non vanno sostenute a volte anche senza saperlo però oggi senza saperlo non esiste più perché oggi si sa sull'importanza di questo messaggio attenzione economia sana e sostenibile che rispetta i diritti dei lavoratori senza schiavizzarli un'economia alla quale noi oggi non possiamo sottrarci e dobbiamo convertirci tu lo scrivi nel tuo libro parlando di quella vogliamo dire i pomodori di Pachino? i pomodori di Pachino già fanno chiamare Pachino solo il pomodoro sembri un Pachino il pomodoro piccolino quello buono che non buono è troppo poco però deve essere buono e sano non deve aver sfruttato il lavoro di nessuno questo tu lo dici nel tuo libro esatto ma è quello è un prodotto straordinario che va acquistato io sono il primo a dire comprate il prodotto di Pachino è straordinario però dovete comprendere che prima di un'inchiesta giornalistica una delle ditte più importanti che produceva quel pomodoro di Pachino era del capo mafia e allora noi abbiamo il dovere di spiegarlo alle persone perché le persone hanno il diritto di sapere cosa comprano e a chi danno i propri soldi e noi abbiamo il dovere di segnare i nomi di quelle aziende o di quelle società e quando andiamo a fare la spesa di non chiedere tutti abbiamo la lingua per chiedere le cose da dove arrivano che cosa sono e andando andando avanti anche noi aiutiamo questa buona economia economia che la nostra Antonella Ferrara eccola qui ci racconta ancora meglio anzi ancora meglio sempre meglio in questo secondo collegamento Antonella vai Paola io ho il piacere di raccontare la storia di Giuseppe che è uno dei soci della cooperativa Pietra di Scarto ma che qui è diventato il coordinatore dei lavori ora Pietro ha una storia particolare ha vissuto lui stesso un'esperienza di fragilità e oggi fa lavorare le persone che arrivano dalle carceri chi vive una situazione di fragilità ecco quanto ti ha cambiato la vita questa esperienza e cosa significa per te lavorare a contatto con queste persone Giuseppe beh mi ha cambiato tanto diciamo che sono due i motivi importanti uno è quello che di aver fatto la scelta migliore nel senso cambiare proprio stile di vita l'altro è che mi rendo conto che più vado avanti e più dico è giusto il percorso che ho intrapreso perché come grazie alla cooperativa che mi ha dato l'opportunità nel 2012 di iniziare con loro questo percorso mi ha cambiato tanto la vita guarda e dare una mano agli altri è bello sì ci sta ci sta nel senso sì ecco è una bella storia quella di Giuseppe poi mi spiegava anche Pietro che lui è molto bravo perché lui sa esattamente come rapportarsi con quelle persone ma tornando sempre a Pietro c'è tantissimo a raccontare qui quindi bisogna un po' saltare volevo chiedere a Pietro di raccontarci di un finanziamento che hanno ricevuto perché oltre a produrre il pomodoro qui tra poco si inizierà anche a trasformarlo sì 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 è un bellissimo progetto una bellissima opportunità che ci è stata data da Fondazione Conil Sud insieme a tanti altri partner l'idea è proprio quella di fare in modo che un bene confiscato possa avere uno spazio di incidenza sulla realtà in cui insiste sulla realtà in cui è presente e per questo realizzeremo un laboratorio di trasformazione in quello che noi chiamiamo il bunker attualmente che diventerà invece un bellissimo laboratorio che coinvolgerà oltre che produttori e lavoratori marginalizzati anche formerà anche sei donne che vengono da percorsi di marginalità o difficoltà a diventare operare specializzate proprio della trasformazione del pomodoro e per noi questo è proprio il senso del titolo del progetto lo abbiamo sognato sogniamo gli altri come ancora non sono come diceva Danilo Dolci e quindi questo sogno piano piano sta prendendo corpo e si sta realizzando Paola a voi grazie grazie Antonella grazie allora la cooperativa Pietra di Scarto sognare sono tutti i verbi che tornano con tutto quello che tu dici e ci insegni Paolo quotidianamente quotidianamente con il tuo esempio personale e di giornalista ribadisco noi noi come possiamo essere utili ma intanto facendo consumo critico quando si va al supermercato o in bottega non si compra qualsiasi cosa ma dobbiamo avere coscienza di ciò che stiamo andando ad acquistare non basta per l'amor del cielo l'offerta più conveniente ma è molto più importante comprendere cosa c'è dietro a quel prodotto che stiamo acquistando e poi se mi permetti nelle parole che abbiamo appena ascoltato due messaggi straordinari sbagliare si può il problema è la reazione a quello sbaglio noi abbiamo sentito dalle parole ascoltate che appunto sbagliare purtroppo è umano è la reazione la reazione di questo ragazzo è stato a mettersi a disposizione degli altri e quindi viva Dio ma è meraviglioso quando è così e poi un altro segnale accanto ai responsabili della cooperativa abbiamo visto due ragazzi di colore ecco per qualcuno oggi il problema nel nostro paese è l'immigrazione io penso che il problema nel nostro paese ancora oggi sono le mafie e noi lo dobbiamo dire con forza perché se andiamo contro chi è diverso del colore della pelle dell'orientamento sessuale del credo religioso stiamo sbagliando le mafie sono nella nostra vita ma si possono sconfiggere come? con l'insempio e con l'impegno di ognuno di noi Paolo Borrometi va sostenuto nelle sue parole con applausi da spellarsi le mani ma non solo per applaudire perché è così perché il suo lavoro lo ribadiamo ancora una volta di tutti i giorni e noi lo vediamo abbiamo questo privilegio a TV 2000 sostieni Pomodoro Revolution facciamo andare a schermo pieno guardate www.produzionidalbasso.com per quelli che sanno andare sul sito andate sul sito se siete delle nonne e dei nonni a parte che siete più sprint di noi esatto fatevi aiutare dai vostri nipotini andiamo a cercare dove trovare questi prodotti e facendo così aiutiamo perché lavoriamo su prodotti puliti ascoltiamo storie di pulizie di rinascita si può sbagliare Paolo hai ragione è tutto quello che viene dopo che serve quello è il grande momento la rinascita si chiama così perché è nascere una seconda volta oppure ora solare o l'ora solare che per noi si chiama Paolo Borrometi al quale per una volta non chiederò dove ci porti la prossima settimana perché tu mi risponderesti lo scopriremo solo vivendo perfetto ci fermiamo per un attimo tra poco torno all'ora solare grazie adesso adesso vi presento un presidente un presidente di un'associazione che dal 1993 lavora per contrastare il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale per togliere le ragazze dalla strada slaves no more basta non più schiave basta con l'essere delle schiave e poi scopriremo cosa ci sia dietro tutto questo il presidente è Suor Eugenia Bonetti ben arrivata grazie ben tornato senza Suor Eugenia ma la devo chiamare presidente o la devo chiamare Suor Eugenia io sono Suor Eugenia tutte mi conoscono e se vuole qualcosa in più le ragazze mi chiamano The Old Mama The Old Mama la mamma vecchia la mamma vecchia la mamma grande la mamma grande la mamma grande e lì è old e il tempo le ha costruito intorno tutta la grandezza di cui lei si fa portavoce quotidiana perché loro sanno capire che cosa vuol dire per loro la nonna è proprio una figura molto emblematica per le donne africane la presenza della nonna ha un aspetto tutto particolare quindi vedendomi anziana adesso che cammino con il bastone quindi per loro hanno una grande venerazione perché io per loro sono come la loro nonna The Old Mama la mamma vecchia anziana allora sì io non aggiungo vi dico solo una piccola cosa è il bastone che cammina grazie a lei ne abbiamo le prove cioè lei crede di camminare appoggiato al bastone il bastone è felice perché dice c'è qualcuno che mi fa camminare ed è lei che lo fa camminare e non è da poco questo scambio allora abbiamo invitato Sore Eugenia perché c'è questa richiesta di preghiera di Papa Bergoglio in questo mese una richiesta che fa parte delle intenzioni mensili della rete mondiale della preghiera essere schiave riporta indietro nel tempo a tempi cupi ed è invece un fatto che accade quotidianamente sulle nostre strade sotto il nostro naso ci passiamo davanti non ce ne accorgiamo o fingiamo di non accorgercene Papa Francesco anche trattiamo di ignorarlo la esclavitud non è qualcosa di altro tempo ante questa trattata realtà non possiamo lavare le mani se non vogliamo essere di alcuna maniera complice di questi crimini contro la humanità non possiamo ignorare che oggi c'è esclavitud nel mondo tanto o più che che antes facciamo per la accogida generosa di la trattata di persone e della prostituzione forzata e della violenza sora preghiamo per l'accoglienza generosa delle vittime della tratta delle persone della prostituzione forzata e della violenza noi che cosa possiamo fare noi possiamo fare moltissimo soprattutto prima di tutto essere coscienti che questa realtà è una nuova e terribile forma di schiavitù lei che cosa ha chiesto a Papa Francesco dunque la prima volta che io ho sentito Papa Francesco alla televisione nella Pasqua del 2003 quando lui è stato del 2013 quando è stato letto Papa in quell'anno quella prima Pasqua lui ha parlato della tratta di esseri umani come crimine contro l'umanità e al sentire questo Papa dire crimine contro l'umanità il nostro cuore di persone che già da anni lavoravamo sulle strade per accogliere per essere vicino a queste donne per aiutarle a uscire da questo tipo terribile di schiavitù è stato un grande sollievo abbiamo detto in questo Papa troveremo veramente un grande alleato che ci aiuterà proprio a rompere le catene di questa schiavitù la prima giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone è stata celebrata nel 2015 sì perché poche settimane dopo la sua elezione nel mese di settembre abbiamo avuto l'opportunità in quattro religiose che ci occupiamo di settori diversi con donne vittime della tratta sulle strade nelle case di accoglienza abbiamo chiesto di andare a visitare il Papa e a chiedere qualche cosa al Papa eravamo quattro religiose e abbiamo chiesto al Papa una giornata particolare contro la tratta di persone e abbiamo chiesto se fosse stato anche possibile suggerire una data che ci sembrava importante e lui ci dice qual è la data di Santa Bachita perché Santa Bachita è una una santa africana schiava che è diventata poi e ci sembrava di essere veramente di trovare una protettrice per le nostre donne e il Papa ha detto va bene con quel va bene noi siamo uscite da quell'incontro con una gioia grandissima perché abbiamo detto qualche cosa cambierà perché ci rendevamo conto che di questo problema nessuno ne parlava le nostre parrocchie i nostri vescovi le nostre conferenze episcopali ormai era diventato una realtà che così si passava ci si passava sopra non si dava importanza non riuscivamo a capire che stavamo distruggendo una generazione di donne e di donne africane in modo particolare e di donne dell'est allora avendo chiesto al Papa di questa giornata quando pochi mesi dopo perché lui ha detto vedremo vedremo dopo mesi pochi mesi dopo il Cardinal Parolin manda una lettera a nome del Papa in cui dice che dopo aver sentito il parere delle realtà a lui vicine ci concedeva la possibilità di fare nel 2015 la prima giornata mondiale contro la tratta di esseri umani per noi è stata una conquista bellissima piena di gioia perché abbiamo detto possiamo davvero toccare anche le realtà più basilari nelle nostre parrocchie nelle nostre organizzazioni nelle nostre diocesi di cui tutti cercavano di nascondere noi volevamo mettere veramente in movimento in visibilità in modo da spezzare questi anelli perché ci siamo resi conto che una catena è fatta di molti anelli e allora ogni anello ha un nome quindi c'era il nome dello sfruttamento il nome della povertà il nome dell'ignoranza il nome della cattiveria c'erano tanti nomi che si legavano insieme e formavano questa catena e queste persone queste donne che venivano da paesi poveri evangelizzati dai nostri missionari e che cosa trovavano nel nostro paese cosiddetto un paese cristiano dove veramente noi allora come ancora oggi possiamo contare su 90.000 donne sulle strade di cui nessuno mai ne parla ma questa è la realtà che noi viviamo perché andiamo sulla strada le incontriamo poi le accogliamo nelle nostre case di accoglienza e l'Italia veramente e le suore hanno aperto le porte sante dei loro conventi per accogliere queste donne ecco questo diciamolo molto molto forte lo devo dire perché lei lo sta dicendo da sempre da quando ha iniziato il suo lavoro però sono state aperte quelle porte spalancate quelle porte sì veramente perché se queste ragazze sono su strada è perché ci sono dei clienti certo che continuano perché se non c'è non c'è la domanda non c'è l'offerta è una regola antica no? sì sì però dico quello che è grave è che se una persona lo può fare di propria scelta volontaria a fare sua ma queste donne sono lì perché sono schiave perché qualcuna le mette lì e poi qualcun altro le cerca le usa e poi le ributta sulla strada e questo è grave noi roviniamo la vita di migliaia e migliaia di persone 90.000 sulle strade in Italia è vergognoso suore Eugenia mi permetta una domanda anche se lei non ha bisogno di domande perché va benissimo da sola così com'è centro di permanenza e l'impatrio di Ponte Galeria a Roma voi andate andate lì lei e il suo bastone no? anzi il suo bastone e lei e più altre suore altre sorelle persone volontarie che cosa fate praticamente? come aiutate? noi ci siamo resi conto di questo centro di permanenza temporanea negli anni 2000 quando è stato aperto cioè 19 anni fa c'era il CIE famoso che era Ponte Galeria c'era il gruppo degli uomini e il gruppo delle donne quindi lì non si sapeva niente perché era tutto chiuso con sbarre sbarre peggio che le carceri abbiamo detto noi dobbiamo essere lì ma dico ma cosa fanno quelle donne lì dentro tutto il giorno in attesa di essere espulse in attesa dell'aereo che le riportasse a casa a mani vuote con lo stigma di prostitute quindi una situazione terribile ci ha voluto tanto tempo per chiedere permessi per poter entrare e abbiamo detto queste ragazze sono anche cristiane hanno bisogno anche dell'assistenza religiosa dell'assistenza pastorale abbiamo detto noi siamo lì per loro e allora non hanno più potuto dire di no perché l'assistenza pastorale religiosa tutti hanno diritto di averla noi siamo entrate quattro suore le prime di lingua inglese parlavamo inglese per poter affrontare lì c'erano sempre dentro 150 donne un numero enorme che poi venivano spedite a casa e allora noi siamo entrate lì poi quando le ragazze nigeriane erano felici di vedere le suore che parlavano la loro lingua pregavamo con loro cantavamo le altre hanno detto ma noi chi siamo perché non ci sono le suore che vengono anche da noi allora abbiamo lanciato l'appello suore di altre nazionalità di altre lingue e abbiamo iniziato a fare questi gruppi di religiosi sabato scorso eravamo 12 suore di 12 diverse congregazioni e di diverse nazionalità questa è la nostra ricchezza se noi mettiamo insieme le nostre povertà diventano una grande ricchezza lucia capuzzi ha scritto questo libro eugenia bonetti combattere lo sfruttamento edizioni san paolo io lo mostro perché nonostante sia di così poche pagine comprende l'impegno di un gigante e il gigante e il suore eugenia bonetti a cui io non credo che si possa dire di no credo che sia molto difficile pronunciare questa parolina in sua presenza tecnicamente ho ancora un minuto sì l'aiuto poi per queste ragazze che cosa diventa dunque l'aiuto che noi possiamo dare a queste ragazze che se desiderano ritornare in patria con un progetto ben finalizzato per poterle aiutare in un reinserimento nella loro famiglia nella loro società l'associazione ha proprio questo scopo aiutare queste persone ritornare a casa con un progetto ben fatto vengono affidate alle suore locali soprattutto abbiamo case di accoglienza in Nigeria lavoriamo molto in collaborazione perché l'unione fa la forza ecco il lavoro insieme è la bellezza che noi possiamo avere per costruire un futuro migliore queste donne ritornano a casa in collaborazione con le suore e decidono cosa vogliono fare solitamente vogliono mettere su un negozio per far vedere che venire in Europa non è stato un fallimento ma hanno procurato qualche cosa e quel qualche cosa glielo procuriamo noi con l'aiuto di tante persone che ci sostengono perché queste persone possono ritornare ad essere donna perché per loro essere donne in Africa ha un valore enorme e allora la donna africana è considerata il palo centrale della capanna il palo la capanna è rotonda se tu togli quel palo la capanna crolla quindi noi vogliamo aiutare le donne ad essere questi pali centrali della loro famiglia della loro società perché abbiano veramente un futuro non sulle nostre strade ma i più schiavi noi continuiamo a gridare e Papa Francesco è un grande alleato perché quest'anno è stato bellissimo allora Suor Eugenia Bonetti grazie di essere stata con noi grazie a voi insieme insieme possiamo fare grandi cose per salvare la dignità della donna allora venite un po' ad abbracciarvela perché guardate io da sola non basto ecco allora venga qua venga qua mi dia sotto braccio che tecnicamente lei dice ho bisogno del bastone non è vero la recita della coroncina la divina misericordia e poi siamo noi e noi ci inchiniamo davanti a questo presidente come è Big Old Mama The Big Old Mama The Big Old Mama e io le sto stringendo la mano e questo è un onore a domani l'ora solare l'ora solare è questa grazie grazie a tutti grazie a nome di tutte le suore grazie a tutti grazie a tutti